Ok Ti viene un crampo alla mano stare così Perché ho capito Secondo me la linea la lancia dove vuoi tu Sì, devi dire a te Cosa hai fatto? Fa triple 20 Eh vabbè, ma guarda quello stronzo Poi uno per goliardia Ah no, perché deve Ok Vai Secondo me ti conviene tirare solo un pelo più in basso Aspetta 68, Già, prendi 18 È un pirla cazzo Silenzio Faccio doppio 4 Tanti batte lui Fai 8 singolo che è più facile magari E che cazzo fa questo? Bo Triple 20 No Sì, ha sballato Ricattato No, current score 0 eh Sì, di questo turno Ah Giacomo Eh, da un sciroppo per la tosse Non il ringamento Sì, di questo pop up Per start the game Ancora, ancora Aspetta, anche qui la dovrebbe Tornare No Faccio io quel telecomando? Sì Criket? Cosa... Cos'è la cricket? Eh... Eh... Games user... Cri... Sì Non c'entra quel critico Con quella mazza Aspetta, non so cosa sia Non so cosa sia Proviamo? Dai Ma io cambierei gioco Eh, sì Ah, vedi, devo prendere il 15 Il 16 Sì, ma ora che hai capito È difficile sbagliare comunque Però piglia bene la... Difficile 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 sbagliare Devi premere un po' prima Ah, su 16 Eh... Ora Baglio Mi ha passato attraverso il bersaglio Hai visto? Stai lasciarlo Perchè per il 50? Ah, puoi prendere quello che vuoi Ah, ok Ah, vedi, devo darlo più volte Eh... Bastardo Sì, devi colpire tre volte quei numeri, esatto B è il centro L'ho preso? No Eh... Vaffanculo Ruota la mano Io mi porto... Giacomo, mi sopporto sulla cassa Ma quante cazzo di cazze Bluetooth hai? Che cazzo di cazze Ok, ma ci riesci? Esci Ok, sta andando un crampo la mano A Durched A